no trovi in piedi, non è in piedi guarda, guarda qui c'è un insegnante delle scuole guarda 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 scuola guarda guarda perché hai rovinato la scuola? ci dica perché hai rovinato la scuola no, no, dai sei in pubblico, scusa, dai non ti ha risposto però cosa ti ha detto? ti ha parlato di reggio children è un po insufficiente come risposta